Il ministro della salute cinese Maxi Aouei è stato ricevuto insieme a cinque funzionari della National Health Commission cinese dal presidente della regione toscana Enrico Rossi, accompagnato dall'assessore regionale Stefania Saccardi e dal direttore della direzione diritti di cittadinanza e coesione sociale Carlo Rinaldo Tomassini. La delegazione dal palazzo della presidenza della regione si è spostata all'ospedale di Santa Maria Nuova e poi all'ospedale pediatrico Meyer. C'è un rapporto mai costruito nel corso di qualche decennio con la Cina, iniziale dall'assessore e si è sviluppato nel corso del tempo. La visita della delegazione cinese alle strutture sanitarie toscane arriva infatti dopo la firma a giugno di un accordo quadro di collaborazione su diversi temi, come la gestione sanitaria, la salute pubblica e la ricerca sanitaria. Oltre 1700 medici che in questi dieci anni sono venuti dalla Cina a formarsi presso i nostri ospedali e anche i nostri medici che sono andati in Cina e che hanno provato a scambiarsi le buone pratiche, le conoscenze e a crescere tutti insieme nell'interesse di un miglioramento del sistema. Il presidente Rossi ha poi consegnato al ministro cinese l'invito al secondo congresso mondiale della medicina integrata in programma a Firenze a maggio 2021.